Buongiorno amici di Bet Italia Web, buon martedì 23 luglio e benvenuti alla puntata numero 38 del nostro podcast quotidiano che come sempre apre la giornata di scommesse sportive andando a vedere un po' il palinsesto, le sfide più interessanti, le notizie di riferimento nel mondo delle scommesse sportive e anche le nostre free pick, oggi abbiamo due free pick da darvi, oggi vi avevo promesso il profeta, c'è una variazione ma ormai siete abituati alle tante variazioni, verrà domani a parlarci di Tour de France e soprattutto di calcio mercato perché ci sono diverse novità da andare a segnalare anche sui giocatori che stiamo seguendo, oggi però abbiamo molto di cui parlare appunto calcio mercato, calcio giocato, poi parleremo di tennis, di ciclismo, di palla nuoto e anche di nuoto e come anticipato vi lasceremo due free pick ieri purtroppo non siamo andati in cassa con la giocata la doppia islandese, avevamo consigliato l'overino nella partita del Coppa Vogur ed è giocata che è entrata, il Coppa Vogur ha vinto 2-0 ma avevamo consigliato anche la vittoria del Breidelbeek in casa contro il Grindavik, purtroppo è arrivato un deludente 0-0, il Breidelbeek continua a perdere terreno nel campionato islandese e anche noi negli ultimi giorni con le nostre free pick in esclusiva sul podcast siamo onesti, abbiamo perso un po' di terreno, siamo un po' calati, cercheremo di rifarci oggi con le due free pick che abbiamo preparato per voi ma prima come al solito partiamo dall'edicola, andiamo a vedere le notizie più importanti e senza dubbio quella di Chiesa, lo scontro con Commisso sul Corriere dello Sport c'è una notizia tutta pagina, l'attaccante della Fiorentina avrebbe chiesto alla società di essere ceduto senza citare i bianconeri ma le strade di mercato ovviamente portano a Torino un giocatore di cui parliamo praticamente costantemente col buon profeta, il prof è dell'idea era dell'idea, adesso non so se sarà cambiata, che Chiesa rimarrà alla fine un altro anno a Firenze e andrà alla Juve il prossimo anno, io avevo qualche dubbio in più, fatto sta che nonostante queste notizie, nonostante la prima pagina del Corriere la quota di Chiesa cambia squadra rimane molto alta e interessante a 4 se siete interessati e se avete l'impressione che Federico Chiesa lascerà a Firenze, vi consiglio di andare a puntarlo perché potrebbe calare questa quota, parliamo anche di Inter, invece sembra sfumare il sogno Lukaku che si allontana, secondo la gazzetta dello Sport, Zeng avrebbe detto di no gli 83 milioni da stanziare per l'attaccante belga dello United, 83 milioni che sono considerati troppi, a questo punto si potrebbe dare il via libera all'affare Geko e si torna su Leao del Lille, sull'asse Roma-Mina si pensa a uno scambio in zonzi per Suso, sempre sulla gazzetta dello Sport si rilancia questa possibilità di Suso alla Roma che è un nome, un accostamento che si sente da tempo, ci sarebbe l'ultima possibilità di uno scambio con il centrocampista francese attualmente in giallo-rosso da verificare il valore reale dei due giocatori per pareggiare eventualmente i conti dei trasferimenti, tutto fatto invece per Correa, al Milan, all'Atletico Madrid vanno 50 milioni più bonus, l'attaccante argentino diventerà il nuovo partner di Piatec, decisivo il blitz di Boban a Madrid, con Simeone Correa spesso giocava anche esterno, nel Milan di Giampaolo l'idea è di farlo giocare punta centrale assieme a Piatec, Piatec fra l'altro ha avuto molti elogi da Giampaolo nelle ultime ore. Ufficiale anche a Napoli, colpo a Elmas comunicato dal Fenerbahce, mentre De Rossi al Boca Junior in Argentina sono sicuri il centrocampista sarà giovedì a Buenos Aires, quindi dopo la partita di Coppa Libertadores del Boca, un'importante partita che attende la squadra argentina, proprio questa notte si gioca già delle partite interessanti in Coppa Libertadores, sono tre le partite in programma, River-Cruiseiro, il River è favorito a 1,80, il Cruiseiro a 5,25, quota in salita anche perché gli ospiti, oltre a giocare in trasferta su un campo difficile, hanno anche diverse assenze importanti. Si sale invece la quota del Godoy contro il Palmeiras, è arrivata a 5 di quota fino a questa mattina, in prima mattinata si giocava anche sotto a 4,5, di conseguenza scende quella del Palmeiras a 1,75, però attenzione perché questa è una trasferta che potrebbe comunque regalare delle sorprese. Infine, Quito contro Olimpia Assunzione, i padroni di casa sono andati a 1,70, Olimpia Assunzione a 5, il pareggio a 3,30. Facciamo però un passo indietro perché nel pomeriggio, in serata, scusate, si giocano anche la Champions League e l'Europa League, le qualificazioni, 5 partite dell'andata, dei quarti, di finale, dei preliminari di Champions League e un antipasto di 5 partite anche per i preliminari di Europa League, poi il grosso delle partite di Europa League ci saranno come al solito giovedì. Tra le partite di Champions, molto interessanti, Pelsen e Olimpiakos, i padroni di casa favoriti a 2,30, pareggio a 3,10, Olimpiakos dato a 3,20, qui potrebbe essere interessante giocare sul passaggio del turno dell'Olimpiakos in antepost. L'altra sfida da non perdere è la PSV Basilea, gli olandesi sono andati a 1,50, pareggio a 4,33, gli svizzeri a 6. Oggi si gioca anche la Coppa di Scozia, su cui però non abbiamo grosse cose da dire, si gioca anche una partita di Super Etten, la seconda lega del calcio svedese e qui invece diamo il primo consiglio della giornata come free pick, parliamo di Yonkopiks Vasteras, giochiamo 1, vittoria dello Yonkopiks a 1,60 di quota, stake 3. 3 vittorie e un pareggio per lo Yonkopiks di recente, che occupa il sesto posto in Super Etten, mentre il Vasteras è in decima posizione. in casa il Yonkopiks ha perso solo una volta, 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, scusate, e ha vinto le ultime 4 partite con 9 gol segnati e uno solo con Cerso. Oggi mi aspetto un'altra vittoria, ci aspettiamo un'altra vittoria dallo Yonkopiks, quindi questa è la nostra prima giocata stake 3. L'altra giocata è una quota di valore che potrebbe anche andare a calare su una partita in programma domani, in questo caso sempre Champions League, in questo caso lo stake è minimo, stake 1 perché la quota è a 3,40 ed è batte Boriso, Rosenborg, Rosenborg cover 1,5 a 3,40, stake 1. Abbiamo visto il Batte contro il Piast giocare male, il Batte ha vinto 2-1 ma non ha certamente meritato, praticamente per oltre 80 minuti non ha giocato, il Rosenborg è una squadra superiore al Piast, potrebbe segnare almeno due reti come è successo nelle ultime 4 partite. In queste ultime 4 partite Rosenborg ha segnato una media di 3,5 gol, la quota è di assoluto valore, il Batte non mi convince, quindi Rosenborg over 1,5 a 3,40 di quota per domani. ve l'anticipo già, è da provare. Archiviamo adesso il calcio, breve pausa e poi passiamo a parlare di tennis. Eccoci di ritorno con il tennis, vi ricordo ogni giorno nei nostri canali Telegram, Tipster, Darius vi dà le free pick più interessanti e se volete fare un passaggio in più potete entrare nel suo canale Pro in abbonamento, contattateci per avere tutte le informazioni, parliamo di un Tipster che è arrivato a superare le 10.000 pick archiviate con un ROI positivo intorno al 4%, quindi stiamo parlando di un Pro. Ma veniamo al tennis, andiamo a vedere cosa c'è oggi in programma. Hamburgo ancora primo turno sulla Terra Rossa dell'European Open 2019, in campo i migliori del ranking compresi due italiani, Cecchinato sfida del Bonis, Cecchinato è data a 2,60, mentre Fognini è nettamente favorito alle 18,30 sfida Lenz, Fognini è data a 1,27 e Lenz a 3,85, Cecchinato invece sarà in campo alle 17,30. Si gioca anche a Palermo, gli internazionali femminili proseguono con gli altri match del primo turno, si parte alle 16 con la nostra Yasmin Paolini contro Laura Siegmund. La Paolini si gioca alta a 2,90, l'avversaria è data a favorito a 1,42. Continuano anche i tornei di Gastad ad Atlanta, a Gastad segnaliamo la sfida tra Darcic e Souza, Darcic è sfavorito a 2,80, Souza si gioca a 1,45, mentre ad Atlanta da non perdere Tomic contro Tiafoe, Tiafoe è favorito a 1,35, Tomic a 3,30. Quindi superiamo, passiamo oltre la veloce parentesi del tennis e parliamo velocemente anche di ciclismo, come detto ieri c'è stata la pausa, oggi si torna in sella dopo il meritato riposo, ci sono i Pirinei che da sempre scuotono la classifica generale, sarà una tappa da 177 km con partenze d'arrivo a Nimes, non so la pronuncia, ha un arrivo per velocisti, quindi occhio a Gronenwengen che è il favorito a 3, segue Evan a 4, il nostro Elia Viviani a 4,75 e Sagan sempre da considerare a 6,50, domani parleremo più approfonditamente del Profeta anche per il discorso della maglia gialla, delle varie maglie, delle prossime tappe, faremo il punto della situazione solito del Tour e vi daremo i nostri spunti. Oggi però vorrei parlare anche di palla nuoto perché si gioca Italia-Grecia, il 7 bello allenato da Alessandro Campagna cerca di tornare ai livelli di un tempo, insegue una semifinale che è mancata nell'ultima edizione, quella di Budapest 2017, il 7 bello non vince il titolo dal 2011 a Shanghai, attenzione però alla Grecia, un cliente davvero ostico, i precedenti sono incorreggianti per i nostri azzurri, chi vince sfida l'Ungheria in semifinale, la quota vede l'Italia leggermente favorita a 2, la Grecia si gioca a 2,20, pareggio a 6,25, anche per la palla nuoto abbiamo il nostro esperto Ramirez e anche con Ramirez c'è la possibilità di entrare nel suo canale Pro su Telegram, come al solito, contattateci. Volevo dire due cose in chiusura anche sul nuoto, perché c'è la terza giornata del Mondiale in Vasca, dalle 13 alle 15 e 20 ci sono le finali dei 200 stili uomini, c'è il nostro Filippo Megli che però si gioca a 50 di quota, il favorito è Son a 2, su Rapsis a 3,50, seguono gli Uis a 4,50 e Scott a 6,50. Si programma anche il 1500 stile donne, è assente Kati Ledecki, quindi la nostra Simona Quadrella a 1,65 diventa la favorita d'obbligo, stacca nettamente la Wang a 3,50 e la Kesely a 7,50. Nel 100 d'orso donne la favorita è la Massey a 1,55, su Arterton a 6, Rook Baker a 7 e la Makheov a 8. C'è anche il 100 d'orso uomini dove Ksu Yao è a 2 il favorito, su Marfi a 3,50, Rillo va a 5, Gravers a 7,50. Infine citiamo il 100 rana donne, perché ci saranno due italiane, Martina Carraro e Arianna Castiglioni, entrambe sono date a 20 di quota per la vittoria, dove dovrebbe essere un affare tra la King e la Fimova, entrambe date a 1,90. Io anche per oggi vi ringrazio dell'attenzione, vi ricordo le due free pick che abbiamo dato, la vittoria, dove sono? Ecco, la vittoria dello Jonkopiks a Sulvasteras a 1,60 stake 3 in Superettan svedese e in anticipo sulle partite di domani di Champions League batte Rosenborg, consigliamo over 1,50 del Rosenborg a 3,40 di quota. Come detto, grazie dell'attenzione, noi ci ritroviamo domani con Profeta, ci ritroviamo oggi pomeriggio con Sport USA News & Tips, io sono auguro e ci sarò di sicuro, non vi anticipo che ci sarà, anche perché se poi ci sono dei cambiamenti di programma devo sempre andare a riprendermi, quindi non dico nulla, vediamo, chi ci sarà ci sarà, un saluto a tutti, una buona giornata, buone scommesse, puntate sempre con la testa, ciao!